La baronessa è molto bella, molto bello il gusto della baronessa, beata lei che ha potuto fare una cosa del genere. Sono molto sorpreso che è stato colpito da due persone, i Tysons. Sono studente dell'architettura, ma mi piace la forma che la organizzazione che si può crossare con Slim Peaches è molto libera. È una collezione molto ben distribuita dal punto di vista della tematica. È una collezione molto bella, fino adesso. Non so quello che vedo nelle prossime ruote. Non so tutto questo, quindi ho scoperto, un nuovo scoperto per me. Sono molto felice. A me piace molto la parte del impresionismo, definitivamente. La baronessa è un luogo unico dentro di Madrid e è necessario verlo. La baronessa è un luogo unico. olio